Già le amo, così twitta Maria Sole Tognazzi. Le lei in questione sono Margherita Bui e Sabrina Ferilli, protagoniste del film Io e Lei, di cui sono appena iniziate le riprese. Le due, icone del cinema italiano, interpretano una coppia gay. La Bui è un architetto, Federica, con matrimonio e figlio alle spalle, mentre la Ferilli è Marina, ex attrice e ora gestore di un'enoteca, più estroversa e lesbica da sempre. Le due decidono di andare a vivere insieme e il film racconta di come il loro passato continuerà ad influenzare la loro storia d'amore. La pellicola, che la stessa regista definisce una comedy drama, è un omaggio pudico al celebre Il Vizietto, interpretato dal mitico papà Ugo, ma la sceneggiatura è originale ed è stata scritta da Ivan Cotruneo e Francesca Marciano. Il film, che prevede anche scene girate nella spiaggia gay di Capocotta, sarà divertente ma anche malinconico. Vorrei che fosse un regalo per tutte le coppie, non solo gay, ha dichiarato la Tognazzi.